Onorevole, buongiorno. Solo giusto due parole di commento sulle vignette definite satiriche dal Fatto Quotidiano ieri sulla sorella del Premier Giorgia Meloni. Dico che non si può far passare per satira quello che invece è una volgarità, perché è veramente vomitevole, ma vomitevole e vomitevole. Due parole, una, basta, vomitevole. E poi una mancanza totale di rispetto della donna, di una donna tra l'altro che non ha un ruolo pubblico, quindi maggiormente e doppiamente vomitevole e irrispettosa. E poi quello che veramente fa impressione è che non ci sia da una parte dell'opposizione, che sempre sta col ditino alzato a dare lezioni sul politicamente corretto, una chiara condanna di quello che è successo e si continua a volerlo far passare per satira. Grazie mille, per me è buono.